Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale la dedichiamo alla vicenda Enigela. Ieri il sindaco e il vice sindaco hanno illustrato i punti ottenuti durante il vertice al Ministero dello Sviluppo Economico. I tre mesi di ammortizzatori sociali hanno detto sono soltanto l'inizio di un percorso che dovrà portare in tempi brevi all'apertura dei cantieri, così come sottoscritto nel protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014. L'amministrazione comunale di Gela fa il punto sulla vertenza Eni dopo gli incontri degli ultimi giorni al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico. I tre mesi di ammortizzatori sociali fino ad aprile prossimo non erano l'obiettivo finale, ha detto il sindaco domenico messianese, ma ci vogliono pure questi. Noi, ha continuato il primo cittadino, pretendiamo l'avvio dei cantieri così come stabilito nel protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014. L'obiettivo più importante sarà il 18 per poter vedere quali sono i cantieri che potranno partire a seguito delle autorizzazioni, cantieri che il giorno tra il 22 e il 24 potranno essere meglio definiti con un altro tavolo dove ci sarà anche Eni proprio sul protocollo d'intesa e quindi poter dare finalmente le risposte al medio termine. Cosa altrettanto importante è l'attenzione per lo sviluppo di questo territorio con l'accordo di programma che in parallelo si sta sviluppando con Invitalia e con il Ministero dello Sviluppo Economico della Regione dove l'amministrazione è parte attiva e che può dare quelle risposte nel medio e lungo periodo che il territorio si aspetta. Intanto la prossima settimana riunione la Regione siciliana alla presenza di Invitalia. Le decisioni politiche sul settore energetico sono delle decisioni che ha preso il Governo centrale, la chiusura quindi della raffineria è una decisione che ha preso il Governo centrale e quindi come tale il Governo centrale deve dare le risposte. Ecco, una delle risposte più efficaci che ha potuto dare in questi primi due incontri è la presenza massiccia della parte politica, nel primo caso con l'ex sottosegretario dello Sviluppo Economico, la dottoressa Vicari, successivamente con il sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro, la dottoressa Bellanova. Quindi per noi questa è una risposta politica seria, ecco la volontà di farsi carico delle responsabilità e di agire nel merito per risolvere i problemi legati ai ritardi autorizzativi che poi hanno portato alla non realizzazione dei cantieri e soprattutto per la volontà di accelerare su quello che sono invece le prospettive del lavoro in alternativa a quelle che invece sarebbero state o dovrebbero essere le tutele al reddito con gli ammortizzatori sociali. Ecco, c'è la volontà di tutti a quel tavolo di non vedere gli ammortizzatori sociali come la soluzione del territorio e c'è la volontà di tutti di accelerare al massimo per redigere questo progetto di riqualificazione industriale capiente con la capienza finanziaria per poter realizzare gli investimenti infrastrutturali e lavorativi con fondi privati e pubblici. L'incontro al Mise dei giorni scorsi si è dimostrato una sconfitta per la città di Gela. La politica incerta dell'Aggiunta messinese dà per vittoria dei fallimenti pericolosi. Unico dato che sembra chiaro sono i tre mesi di ammortizzatori sociali. Per il resto non c'è niente. E' quanto dice il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. La forza della grande manifestazione di martedì scorso non tocca le scelte politiche dell'amministrazione che naviga a vista senza progettare nulla. Niente certezze sulle bonifiche, sul risanamento ambientale del territorio. Non sappiamo nulla, si legge ancora, sui dettagli dei progetti, sulle procedure per il reperimento dei fondi, sulle tempistiche di realizzazione. Solo parole confuse. Parlano di facilitazione del protocollo. Lo scrivono sull'accordo di programma. documento che il sindaco dichiara non modificabile da nessuna parte politica come a dire che lo ha scritto lui e si fa come dice lui. Purtroppo, sottolinea ancora il gruppo consigliare Grillino, il protocollo si dimostra fallimentare, una scatola vuota a favore di Eni. Non vogliamo gli interventi di politici che hanno distrutto la salute dei gelesi rendendo legittimo l'inquinamento da petcock. Vogliamo scelte serie di riconversione e non passerelle in cui vecchi politici dismessi parlano di fantasiose riaperture di impianti. Servono, chiude il documento, politiche attive per il lavoro e non bugie ed elemosina. E l'avvertenza Gela è stata dibattuta ieri sera nel corso della trasmissione Agorà condotta in studio da Franco Gallo. Vediamo. Appesa ad un filo, quello della speranza, non resta che quella e a quella non possono che aggrapparsi i gelesi. La città langue sotto una crisi senza precedenti e la politica, quella che potrebbe, anzi dovrebbe risolvere i problemi, nicchia colpevolmente. La politica con la P maiuscola, quella nazionale e quella regionale. Quella del PD, partito che comanda a Roma e a Palermo e che comandava a Gela fino a pochi mesi fa. Quel partito che gli attuali disastri di Gela ha creato quasi ad arte e che oggi tentenna persino ad intervenire prima che provare a risolverli. Roma-Palermo, Palermo-Roma o se volete Renzi-Crocetta-Crocetta-Renzi. Un palleggio di responsabilità insopportabile e dannoso che sta portando al collasso la città del Golfo. Quella che era la quinta città della Sicilia, diventata sesta con l'avvento del PD al governo cittadino e che sta scalando come una marcia del gambero, la classifica al contrario. Una città sedotta e abbandonata che pur con tutte le contraddizioni di questo mondo, pur con tutti i limiti insiti nel DNA gelese, certo non meritava e non merita questo trattamento, questo maltrattamento per essere più precisi. E c'è chi ancora non capisce che non è con la contrapposizione politica che si aggrediscono i gravi problemi di Gela, ma solo con l'Unione e la forza di volontà di venirne fuori assieme da questo nerissimo tunnel. Lo hanno chiesto persino i più danneggiati da questa crisi industriale gelese, ossia gli ex lavoratori dell'Indotto, un paio dei quali presenti ieri sera ad Agorà. Mi rivolgo alla classe politica che è qua in studio, anche la classe politica che non è in studio, a nome personale, a nome di tutti i lavoratori, che in questo momento particolare che il territorio sta attraversando, di evitare tutte queste contrapposizioni, di non guardare nessun colore politico, di non guardare nulla e di sostenerci. Perché noi siamo con voi e voi dovete essere con noi, quindi tutti dobbiamo fare squadra assieme per un unico obiettivo, lavoro. Ma dallo stesso studio di Agorà il messaggio politico che ne è venuto fuori non è stato dello stesso avviso della serie Consiglio Sprecato e Fiato Perso. Risolva i problemi di casa sua, che non li sa risolvere sindaco, si dimetta sindaco, si dimetta, dia dignità alla città, mandiamo un commissario e ci facciamo amministrare. Lei non è in grado di amministrare questa città sindaco, non è in grado di amministrare questa città, non ha capacità amministrativa sindaco. Il rotocalco settimanale di Canale 10 ha ospitato un parterre ricco con il sindaco Domenico Messinese, il suo vice Simone Siciliano, i vertici sindacali locali Ignazio Giudice della CGL ed Emanuele Gallo della CISL e quindi il consigliere comunale indipendente Carmelo Casano ed il componente della direzione regionale del PD Giacomo Gulizzi ed ancora l'ingegner Fabrizio Lisciandra e come detto alcuni ex lavoratori dell'indotto nella fattispecie della ditta nuova X-Gamma. La trasmissione è stata aperta da una stupenda clip sulla storia di Gela raccontata dalla splendida canzone nel cuore Gela del nostro editore Antonio Cavaterra. Una sorta di appello ad amare di più Gela perché solo amandola davvero tutti assieme la possiamo ancora salvare. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10 oppure sui nostri indirizzi social il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con Gela e Di Gelesi al centro dei nostri riflettori. E una delegazione di consiglieri comunali capeggiata da Salvatore Scerra ha incontrato a Palazzo Grazioni a Roma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi grazie al deputato regionale Pino Federico che ha spinto per un incontro sulla vertenza Eni la delegazione bipartisan composta oltre che da Scerra anche da Salvatore Sammito, Salvatore Gallo e Giuseppe Ventura è stata ricevuta da Silvio Berlusconi e Gianfranco Micciche volato da Palermo a Roma per seguire la vertenza Gela. Abbiamo spiegato il momento difficile che sta attraversando la città ha detto Scerra e la necessità che il governo intervenga sull'Eni affinché si acceleri l'avvio della riconversione ed il rilascio degli iter autorizzativi. Sammito ha consegnato al leader di Forza Italia il documento condiviso da tutto il Consiglio Comunale. Il Presidente Berlusconi ha annunciato l'intervento dei suoi parlamentari con il coinvolgimento dei responsabili dei gruppi alla Camera a Renato Brunetta e al Senato Paolo Romani. Lo Stato non può sempre difendere ad oltranza Leni ha detto Berlusconi alla delegazione di consiglieri gelesi ma deve dare risposte ai lavoratori che non possono essere sedotti e abbandonati. Chiudiamo il capitolo legato alla vicenda Eni parliamo di cronaca giudiziaria tre arresti sono stati eseguiti dalla Polizia a Gela un 46enne Luigi Brigadieci deve scontare un anno e tre mesi ai domiciliari per inosservanza della disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto Salvatore Curro, 33 anni è stato tradotto nel carcere di Contrada Balate per il reato di furto aggravato continuato e Marco Catani a 34 anni ai domiciliari dovrà scontare cinque mesi per guida in stato di ebbrezza. Avvocato, l'ordine degli avvocati che lei rappresenta ha ottenuto un primo risultato importante con una decisione del TAR a proposito di un bando che era stato emanato dal comune di Gela. Sì, abbiamo ottenuto questo risultato che ci è stato comunicato dal nostro avvocato incaricato l'avvocato Girolamo Rubino il quale proprio ieri mi comunicava che la TAR aveva accorto la sospensiva ritenendo che era abbastanza fondato c'erano i profili del pericolo in Mimora e quindi come tale ha sospeso rinviando al merito poi l'eventuale decisione finale anche in termini di spese e tutto. Che cosa prevedeva il bando e che cosa contestavate? Allora, il bando prevedeva la costituzione di tre avvocati, cosiddetta associazione di scopo che si doveva occupare un po' di tutta quella che era il condenzioso del comune di Gela. Ora, da quello che noi abbiamo letto e che abbiamo sempre cercato ma non fare polemiche, cosa, ma abbiamo dato anche la nostra disponibilità a collaborare con il comune per cercare che venga fatto un bando magari in maniera più corretta secondo naturalmente il nostro punto di vista e quindi criticavamo che per esempio si doveva fare un'associazione di scopo che non è prevista nella nostra legge professionale e poi vi erano dei profili che facevano più prendere per una dipendenza e non violando quelli che sono i principi dell'autonomia e dell'indipendenza dell'avvocatura e quindi poi ancora quella discriminazione che molti non potevano partecipare chi fa politico che aveva assunto delle cariche pubbliche. Avvocato, dopo questa decisione del TAR c'è ancora disponibilità al dialogo con l'amministrazione comunale? Ma guardi, noi come Foro Gelese che io rappresento siamo stati sempre nella disponibilità tanto è vero quando in un primo momento il sindaco aveva dopo il nostro ricorso al TAR l'aveva sospeso noi ci eravamo fermati questa è stata interpretata dall'amministrazione come un abbandono cosa che invece non era così tanto è vero che quando il sindaco ha continuato a portare avanti e quindi ha dato esecuzione al bando il nostro legale ripeto l'avvocato Rubino l'ha imbugnato con i motivi aggiunti chiedendo anche la sospensiva sospensiva che oggi abbiamo ottenuto parliamo ancora di cronaca nera due auto in fiamme la scorsa notte a Gela a fuoco in via Ariosto nella zona di Baracche dove è stata colpita la Fiat 600 di una casalinga altro rogo in via Caterina a fondo Iozza distrutta la Mercedes di un commerciante e la cooperativa a Cotta di Palermo la ditta che si è giudicata l'appalto in via provvisoria della servizio di rivezione scolastica a Gela dopo le ademienze previste contiamo di attivare immediatamente il servizio detto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela dopo varie vicissitudini siamo in grado di dare finalmente una risposta chiara ai nostri alunni e alle lavoratrici coinvolte la modalità prevista per l'aggiudicazione nel prossimo anno scolastico terrà conto di tutte quelle criticità che possono subentrare così come è venuto in questi mesi ci riappropriamo lentamente della normalità e grazie a piccoli aggiustamenti di rotta ha detto il componente dell'aggiunta messinese contiamo di portare a casa i grandi risultati di una programmazione a larga e lunga scala si è svolto oggi nell'auditorium del ricerso scientifico e linguistico Elio Vittorini di Gela diretto da Angela Tuccio l'incontro con gli esperti dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta nell'ambito delle attività di educazione alla salute e di promozione di comportamenti corretti alla prevenzione delle malattie cardiovascolari torna il consueto appuntamento con i giovani per la prevenzione questo è un progetto il progetto cuore che va avanti ormai da un po' di tempo quali sono i risultati che avete ottenuto e i risultati che si ottengono in genere con la prevenzione? sicuramente la prevenzione ha un valore formidabile quindi noi col progetto cuore in particolare misuriamo quello che viene fatto attraverso dei questionari che vengono somministrati prima e poi dopo l'intervento quindi abbiamo visto che effettivamente i ragazzi hanno appreso molti concetti e molti già li conoscono perché vengono dati sicuramente dalla scuola dai docenti che fanno una grande opera ma altri vengono acquisiti grazie alla nostra presenza sono ormai parecchi anni che noi lo portiamo avanti non solo nelle scuole superiori ma anche nelle scuole medie appunto vuole evidenziare l'importanza degli stili di vita e dell'alimentazione nel rispetto del concetto della salute dettato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che consiste nel bell'essere fisico mentale e sociale quali sono i consigli che più frequentemente lei dà ai giovani per condurre uno stile di vita sano utilizzare dei cibi freschi e di stagione quindi un imperativo è questo ed evitare i cibi conservati e quelli ricchi di sale e di zuccheri aggiunti che porterebbero all'obesità o al sovrappeso prima di arrivare all'obesità dormire almeno 7-8 ore la notte quindi evitare di dedicarsi con ipad telefoni e cellulari vari che possono distogliere l'attenzione e soprattutto sregolare la funzione ormonale a livello organico e quindi al mattino ci si sveglia stanchi affaticati e cambia anche il senso della fame proprio è dovuto alla leptina che è un ormone dedicato a questo la scuola ha tra i propri compiti istituzionali proprio quello di un'educazione a 360 gradi che guardi quindi sia lo stato contenutistico meramente contenutistico sia la sfera appunto del benessere che la coscienza civile quindi è proprio perché è tutto il cittadino che deve essere formato e pertanto non possiamo esimerci a fare questo tra l'altro questo è anche comunque una sensibilità che il liceo scientifico ha sempre dimostrato e non vuole venire meno in questo io come dirigente ma soprattutto i miei docenti ritengono che una scuola per essere completa per dare agli studenti una formazione completa non può prescindere da questo e soprattutto dalla collaborazione con gli enti territoriali da lunedì prossimo i lavoratori del reddito minimo di inserimento in servizio al comune di Gela torneranno al lavoro gli ambiti di azione riguardano l'ausilio al personale degli uffici comunali la manutenzione del verde pubblico e della segnaletica stradale l'impegno di spesa è stato approvato lo scorso 19 gennaio mentre i mandati di pagamento relativi al mese di dicembre sono arrivati ai destinatari e sempre lunedì partirà al comune di Gela il servizio di trasporto per disabili i voucher consegnati sono complessivamente 37 di questi 14 serviranno per accompagnare i fruitori nei luoghi di lavoro mentre 23 in centri come quelli sanitari o diurni è prevista per domani al Cineteatro Antitoto di Macchitella Gela la terza edizione del Meeting del Mediterraneo promosso dal coordinamento delle opere l'associazione che riunisce varie realtà legate al movimento giovanile Macchitella tra i temi che saranno affrontati c'è quello della vicenda Eni si parlerà anche di bonifiche appuntamento previsto per le 10 alle 12.30 sarà celebrata la messa e nel pomeriggio riprenderanno i lavori un open day alla Salvatore Quasimodo davvero all'insegna non solo delle competenze da spiegare agli ospiti ma anche dell'allegria si respira davvero un'aria di gioia ma si respira un'aria di gioia per un semplice motivo perché il benessere dei nostri alunni la qualità dei rapporti delle relazioni è al centro del nostro progetto educativo un progetto educativo che da un lato è ancorato alla tradizione con la forza del lavoro della stima che godono presso le famiglie ormai da diversi anni di oltre 100 insegnanti stabili e dall'altro lato con una grande disponibilità ad accogliere l'innovazione e quindi con una serie di attività che promuoveremo che abbiamo già promosso quest'anno e che promuoveremo anche l'anno prossimo all'insegna della tecnologia ovviamente sempre con una ecco con una visione opportuna dell'utilizzo di questi strumenti perché vanno utilizzati soprattutto sfruttando le potenzialità in ordina in nuovi modi che i ragazzi hanno da apprendere quindi non assolutizzando la tecnologia in quanto tale coloro i quali volessero iscriversi alla Salvatore Quasimodo a chi devono rivolgersi e fino a quando allora io ricordo ribadisco innanzitutto che il plesso Giovanni XXIII fa parte della Salvatore Quasimodo quindi le iscrizioni la segreteria è aperta qui presso la sede centrale dalle 8 di mattina alle 13 quindi tutti possono venire tranquillamente a riscriversi quindi noi accettiamo le iscrizioni sia per il plesso centrale di via Salonico sia per il plesso Giovanni XXIII per i tre ordri di scuono quindi la scuola dell'infanzia la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado c'è tempo fino al 22 di febbraio quindi c'è tutto il tempo per poter prendere questa decisione e speriamo di offrire quello che le famiglie desiderano per il loro figlio noi pensiamo di poterlo fare sono aperte le iscrizioni all'istituto tecnico Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio Di Bartolo settore economico ed alberghiero per informazioni rivolgersi direttamente al personale della segreteria in via Ettore Romagnoli dalla lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il martedì dalle 15 alle 18 è in edicola e lo vediamo il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro da Roma solo panicelli caldi e questo è il titolo di apertura del giornale che alla vertenza Gela dedica ben 5 pagine con ampi resoconti commenti e immagini sulla grande mobilizzazione di martedì e sulla missione romana della delegazione gelese scrivono Giulio Cordaro Filippo Guzzardi Nello Lombardo e Lucrezia Ferro nelle pagine interne un'ampia intervista di Nello Lombardo alla sindaco messinese un breve ricordo del regista Ettore Scola scomparso in settimana a firma di Gianni Virgadaula ed una rivisitazione del Corano in chiave maschilismo islamico scritta da Franco Lauria Nello sport i commenti di Orazio Accomando sul campionato di calcio di eccellenza dove il Gela ha guantato la capolista e la consueta finestra sulle due squadre gelesi impegnate nel campionato di promozione Atletico e Macchitella in ultima pagina come di consueto la pagina degli annunci economici ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità benvenuti seconda parte del telegiornale donazione di organi atto d'amore fatto culturale è il titolo del convegno che si trarrà nell'auditorium dell'eliceo classico di Gela lunedì 1 febbraio alle 16 organizzato dal reparto di rianimazione dell'ospedale Vittorio Emanuele sono previsti gli interventi del dirigente scolastico Giochino Peliteri di Lucio Antona di Salvatore Benfante Picogna dell'associazione maestri cattolici italiani e di Giacomo Giurato referente interprovinciale dell'associazione italiana donatori di organi e tessuti hanno assicurato la loro presenza Luciano Fiorella direttore sanitario dell'ospedale Giorese il direttore generale dell'ASP2 di Caltanissetta Carmelo Iacono ed il sindaco Domenico Messinese prevista la presenza di Reginald Green il papà del piccolo Nicolas sette anni vittima nel 1994 di un assassino sull'autostrada A3 Salerno Reggio Calabria mentre era diretto in Sicilia con i suoi genitori grazie a Nicolas vivono sette persone sarà celebrata a martedì 2 febbraio prossimo alle 18.30 in chiesa madre a Gela la messa in onore della beata Maria Cristina di Savoia Fino al 31 gennaio prossimo presso il Palazzo Ducale è possibile visitare la mostra fotografica in onore di Don Franco Cavallo realizzata da Franco Pardo in collaborazione con Croci a Tardi espongono gli artisti Gina Pardo e Pino Polara la mostra patrocinata dal comune di Gela potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel cartellone della 82esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domenica alle 19 nei locali del Palazzo Principessa Pignatelli è previsto il recital del pianista Davide Sciacca stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18 e 30 alle 20 e 30 prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo l'assessore ai lavori pubblici del comune di Gela Flavio Di Francesco ha concordato con il dirigente comunale del relativo settore degli interventi di manutenzione straordinaria alla Villa Garibaldi abbiamo riscontrato una situazione incresciosa di degrado all'interno dell'area verde ha detto l'esponente della Giunta e per evitarne una fruizione parziale e pericolosa è necessario intervenire in tempi brevi l'assessore di Francesco ha effettuato un sopralluogo nella villa ascoltando l'utenza e riscontrando di persona varie criticità sulle quali sarà tra l'altro redatta una relazione da parte degli uffici per tracciare le migliori linee di intervento e ora parliamo di calcio il Gela cerca domani a Camarata l'allungo in vetta alla classifica del torneo di eccellenza Girone A occasione chiotta per il Gela per tentare la fuga in vetta al Girone A di eccellenza domani il team allenato da Totò Bruculeri sarà di scena a Camarata nell'Agrigentino un vero e proprio testa coda il Camarata infatti occupa le ultime posizioni della classifica a quota 17 dunque in lotta per la sopravvivenza i Biancazzurri dopo aver conquistato domenica scorsa il comando della gradatoria in condominio con la San Cataldese non vogliono e non devono più fermarsi ecco perché sottolineiamo che quella di domani è una partita da vincere a tutti i costi non sarà facile è giusto ribadirlo perché gli agrigentini faranno il tutto per tutto per ribaltare il pronostico troppo evidente il divario tra le due compagini ma attenzione sono proprio queste le partite che nascondono numerose insidie ecco perché l'allenatore gelese in settimana ha predicato umiltà e concentrazione ribadendo che è importante mantenere il giusto equilibrio contro queste squadre che giocano per salvarsi per la gara di domani fischio di inizio previsto per le 15 saranno assenti buonaffini squalificato ed alma infortunato dovrebbero essere sostituiti da treppiedi e caci anche a cammarata saranno presenti i tifosi biancazzurri finora non hanno mai fatto mancare il loro apporto da domani comincia un nuovo campionato per il Gela altre 11 partite e poi si tireranno le somme ci sono stati è chiaro dei momenti difficili così come prevedibile in un campionato assai logrante e duro ma la truppa biancazzurra si è subito ripresa ora è in testa e ci vuole rimanere fino al termine della stagione regolare adesso viene il bello non bisognerà mollare di un solo centimetro una vera e propria guerra di nervi e psicologica la partita di domani sarà diretta da Davide Santorossa di Pordenone assistito da Picciolo Arraspanti di Catania e nel campionato di promozione impegno casalingo per l'atletico Gela la squadra di Peppe Misiti reduce dalla vittoria per 1-0 ottenuta domenica scorsa Marina di Ragusa se la vedrà con il new team Ragusa i gelesi occupano il terzo posto in classifica con 33 punti a meno 3 dalla vice capolista Licata mentre i blei si trovano in piena zona play out con 20 punti derby invece per il Macchi della Gela i ragazzi allenati da Mirko Fauciana se la vedranno a Caltanissetta contro la capolista Nissa impegno assai difficile per i biancorossi il Macchitella nel turno precedente lo ricordiamo è stato battuto tra le mura amiche 3-1 dal Ragusa la pagina del cinema sono due i film in programmazione al Cineteatro Antitodo di Macchitella a Gela alle 17.30 e alle 19.30 Carol e alle 21.30 il Ponte delle Spie lunedì 1 febbraio alle 21 invece sarà proiettato il film 4 mesi 3 settimane 2 giorni il costo del biglietto è di 3 euro abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito buona fine settimana appuntamento a lunedì per averci seguito per averci seguito per averci seguito un'altra per averci seguito Grazie a tutti